Salve a tutti ragazzi e buon pomeriggio. In questo video volevo parlarvi delle principali e sostanziali differenze che ci sono fra le proteine globulari e le proteine fibrosi. Allora innanzitutto partiamo dal presupposto che una proteina è un macronutriente fondamentale per il nostro organismo, proprio come lo sono i carboidrati, proprio come lo sono gli acidi grassi o i grassi, proprio come lo sono anche gli acidi nucleici. Le proteine ovviamente hanno dei componenti e questi componenti sono chiamati amminoacidi. Immaginate la proteina come un muro e ogni singolo mattoncino di questo muro è un amminoacido. Gli amminoacidi sono suddivisi in amminoacidi essenziali e amminoacidi non essenziali. Gli amminoacidi essenziali sono quelli che noi non siamo in grado di produrre o di sintetizzare e quindi questo tipo di amminoacidi vanno assunti solo ed esclusivamente tramite la dieta. Gli amminoacidi non essenziali invece sono quelli che noi siamo in grado di sintetizzare e di produrre e per questo motivo che li assumiamo o meno con la dieta non è di rivevante importanza. Le proteine anche loro hanno delle strutture, la struttura primaria, secondaria, terziaria e quadernaria. La struttura primaria è un insieme di amminoacidi lineari messi uno vicino all'altro. Gli amminoacidi nella struttura secondaria che vanno a costituire le alfa eliche o i beta foglietti. Immaginate per il beta foglietto una mappa ripiegata a fisarmonica e per l'alfa elica immaginate il DNA. Quella è la struttura secondaria delle proteine. La struttura terziaria invece è costituita da un accartocciamento, fondamentalmente altro non è che un accartocciamento tridimensionale della struttura secondaria dell'alfa elica o del beta foglietto, mentre la struttura quaternaria è l'interazione di più gruppi polipeptidici messi uno vicino all'altro. Le proteine globulari sono proteine solubili in acqua innanzitutto, molto pesanti, quindi dal punto di vista molecolare molto grandi, e sono principalmente delle proteine funzionali. Un esempio di proteina globulare è la miosina, che è utilizzata per l'idrolisi dell'ATP in collaborazione con l'actina, che è un'altra proteina fondamentale del citoscheletrocellulare. Un altro esempio di proteina globulare è l'emoglobina, appunto, che ha la principale funzione di trasportare l'ossigeno nel sangue. Un altro esempio di proteina globulare invece è data dalla mioglobina, che ha la stessa funzione dell'emoglobina, solo che, anziché trasportare l'ossigeno nel sangue, trasporta l'ossigeno nei muscoli. Poi, tra l'altro, dal punto di vista chimico, mioglobina ed emoglobina sono anche molto simili. Le proteine fibrose invece sono delle proteine principalmente strutturali. Un esempio di proteina fibrosa è, per esempio, il collagene, chiamato anche collageno, oppure la cheratina, che è presente nei capelli, nelle unghie, nelle strutture di alcuni esoscheletri di alcuni animali, come ad esempio i ragni o gli insetti. Tra l'altro, la cheratina è la proteina più resistente in natura, è anche la proteina più abbondante in natura, e va a costituire anche i cheliciri dei ragni, per esempio. Un altro esempio di proteina fibrosa è data dalla fibrina, dall'elastina, insomma, tutte quelle proteine che hanno una funzione prevalentemente strutturale. E, a differenza delle proteine globulari, le proteine fibrose non sono solubili in acqua, perché al loro interno non hanno una grandissima quantità di amminoacidi polari, che anzi hanno molti amminoacidi idrofobici. Quindi, queste sono le principali differenze fra le proteine globulari e le proteine fibrose. Ovviamente c'è un mondo da spiegare dietro le proteine, così come c'è un mondo da spiegare dietro i carboidrati, gli zuccheri, gli acidi grassi, eccetera, eccetera. Però, questo era un video mirato che spiegava nel dettaglio, anche in maniera abbastanza semplice, quello che è l'effettivo divario che c'è appunto fra le proteine globulari e le proteine fibrose. Detto questo, io vi saluto, vi auguro buon proseguimento, vi mando un abbraccio, ci vediamo e ci sentiamo con un prossimo video. Un saluto da parte mia. Ciao ciao!